Lo scorso weekend non è ripartita soltanto la Formula 1 ma negli Emirati Arabi si è corsa anche la prima gara stagionale della MotoGP in particolare nello stato del Qatar al circuito internazionale di Los Aile che ormai come la tradizione apre il Moto Mondiale con il Gran Premio in notturna la prima delle due gare del Qatar ha visto una bella gara di MotoGP, un dominio in motore di un pilota e la solita bagarre in Moto3 e dunque di questo parleremo del Racing Podcast di due giorni dopo visto che le gare si sono corse la domenica e il podcast lo vedete martedì alle ore 19 dopo aver registrato il post gara della Formula 1 che vi invito sempre a recuperare ve lo so sempre qui in alto nelle schede. Partiamo allora con l'analisi della gara della MotoGP e appunto come dicevo all'introduzione è una gara di MotoGP assolutamente interessante perché ci sono stati tanti piloti in lotta per le prime posizioni alla fine però a spuntarla è stato colui che ha gestito meglio la corsa negli ultimi giri in particolare ed è una Yamaha ufficiale quella di Maverick Vignales che a inizio gara sembrava fare il solito gambero perché partiva come al solito nelle prime posizioni il pilota spagnolo a un certo punto della competizione è arrivato addirittura fino all'ottava posizione dopodiché è risalito fino ad avere il margine di sicurezza necessario per tagliare il traguardo per prima e giudicarsi la prima gara stagionale è un Vignales che è partito bene un po' come la stagione appena arrivato in Yamaha ufficiale dove doveva essere e sembrava essere l'antimarkets con una serie di vittori incredibili nelle prime competizioni qui il copione per il momento sembra ripetersi certo una gara non fa primavera ma comunque è una MotoGP diversa che è molto più equilibrata rispetto già anche a quella di qualche anno fa qui Vignales comunque ha avuto la lucidità e la capacità di gestire meglio le gomme e fare una gara di solito in controtendenza rispetto magari alle abitudini dove partiva a razzo per poi retrocedere nella parte centrale del gruppo sono addirittura nelle retrovie l'anno scorso era così questo sembra un po' il primo Vignales quello che faceva il percorso contrario un Vignales che partiva un po' sornione a centro gruppo tra i primi e poi arrivava fuori alla distanza dalla seconda parte di gara quando effettivamente in condizioni diverse rispetto agli altri il pilota spagnolo effettivamente aveva già dimostrato qualcosa in più è una vittoria importante per Maverick Vignales appunto perché non c'è Marquez in quanto è ancora infortunato e lo rivedremo soltanto dopo la seconda gara del Qatar e dunque per colui che comunque è ancora considerato un piatta talentoso che deve ancora dimostrare qualcosa in MotoGP nonostante effettivamente abbia un talento superiore a molti piloti che sono in greglia in questo momento è assolutamente un bel viatico partire con 25 punti e dunque come l'anno scorso vince una Yamaha non è la Yamaha SRT all'epoca fu Fabio Quartarò che vinse a Erez ma qui parliamo della vittoria di Maverick Vignales dunque primi 25 punti per il pilota spagnolo Maverick Vignales dunque ha tagliato il traguardo per primo quasi in solitaria dietro Vignales in realtà poi si è scatenata una grandiosa lotta tra tre piloti in particolare con la Suzuki di Juan Mir che anche lui ha fatto una gara stile Vignales molto sorgnone nelle posizioni di centro gruppo per poi risalire e giocarsi addirittura il podio con le due Ducati in particolare il poleman del Qatar Francesco Bagnaia che ha fatto una pole position straordinaria in qualificazione superando il record della pista e una sorprendente Ducati Pramac di Johan Zarco che comunque appena trova una moto un pochino più competitiva effettivamente dimostra di essere un pilota di livello e di talento qui vediamo il fotofinish, il fotogramma meglio della volata finale tra i tre piloti con un motore Ducati veramente pazzesco, un motore Ducati sontuoso che di fatto svernicia Mir che in realtà sbaglia l'uscita dall'ultima curva del Qatar lungo rettirineo poi non lascia scampo al poco motore della Suzuki e lascia appunto il via libera al motorone Ducati che con una doppia scia di Zarco e appunto Bagnaia sfrutta appunto la sua caratteristica fondamentale ovvero la potenza per sverniciare il pilota campione del mondo in carica e arrivare alla vittoria quantomeno del fotofinish che dunque consigliano a Zarco un incredibile secondo posto e effettivamente un altro podio per Francesco Bagnaia il primo con la Ducati ufficiale su Bagnaia devo essere sincero avevo un po' delle remore perché appunto è un pilota ancora molto giovane che per diverse vicissitudini non ha dimostrato ancora di essere quel pilota dominante che era in Moto2 qualche anno fa la scelta di Ducati ufficiale è stata quella di una linea giovane ed effettivamente le Ducati hanno fatto bene Bagnaia si è adattato benissimo alla nuova Panigale ed effettivamente è assolutamente un pilota a tenere in considerazione in generale comunque le Ducati su una pista di motore hanno dimostrato di essere ancora una volta delle moto molto quadrate tecnicamente da questo punto di vista tanto è vero che appunto come vedremo dalla classifica ci saranno tanti Ducati nelle prime 10 e addirittura due sul podio con una Ducati semi ufficiale quella del Team Pramac davanti appunto a una Ducati ufficiale pura come quella di Francesco Bagnaia il vincitore è comunque ricordo ancora una volta Maveric Vignales e per lui suona la marcia reale l'inno nazionale spagnolo la classifica dunque che corrisponde di fatto all'ordine d'arrivo vede appunto i seguenti piazzamenti con di fatto due marche sul podio Yamaha prima Ducati seconda e terza una Suzuki che comunque ha fatto una più che buona gara fa quarto e sesto con il campione del mondo in carica Juan Mir che appunto viene bruciato in volata dalle due Ducati appunto finisce ai piedi del podio veramente per un'incollatura quinta posizione per Fabio Quartarolo che comunque cambia moto e passa dalla Yamaha SRT alla Yamaha ufficiale e nonostante un'adattabilità un po' difficile comunque dimostra di essere un bel pilota e fa quinto che male di certo non è sesto è Alex Rins pilota che secondo me ha margine e attenzione al pilota spagnolo per le prossime gare comunque una Suzuki che pur avendo solo due moto si dimostra anche qui una squadra di qualità e fa quarta e sesta settima posizione per Alec Spargarò per l'unica apriglia di fatto competitiva perché al di là di Alec Spargarò la casa di Noale non ha veramente nessuno non ha mai avuto nessuno tra Iannone, il buon Bradley Smith e il povero Lorenzo Savadori che anche questa volta è arrivato ultimo al traguardo Alec Spargarò corre di fatto da sole ed è lui che porta i maggiori sviluppi e i maggiori punti ovviamente alla casa italiana ottavo è Poles Spargarò con quello che rimane della Honda e qui si vede a maggior ragione ancora una volta come senza Marquez la casa giapponese faccia veramente fatica dal momento che il migliore appunto è il nuovo pilota ufficiale Poles Spargarò dopo l'enorme parentesi con KTM nella posizione è Jack Miller un po' deludente secondo me il pilota australiano è considerato il potenziale e visto anche che ha fatto una più che dignitosa gara di testa per buona metà della gara e decimo il mio pupillo il best di Rimini e Nea Bastedini che all'esordio assoluto in MotoGP si dimostra ancora una volta il miglior rookie meglio di Jorge Martín e soprattutto di Luca Marini e appunto di Lorenzo Salvadori Enea Bastedini da campione mondiale in carica di Moto2 fa una top 10 all'esordio in MotoGP con una moto tecnicamente inferiore perché quindi è una Ducati clienti del team A20 in ogni caso è lui la quarta Ducati in pista ed è assolutamente una cosa positiva Enea Bastedini comunque completa la top 10 tutti gli altri sono di fatto after the music con appunto la Honda che si lecca le ferite con Stefan Bradel che dunque viene richiamato ancora una volta a sostituire Mark Marquez undicesimo Nakagami e Alex Marquez si sono di fatto ritirati nel corso della gara e dunque di fatto la Honda è una delle principali delusioni di questa gara del Qatar 1 Qatar 2 il Gran Premio di Doha sarà invece questa domenica il 4 di aprile la domenica di Pasqua Gli altri italiani abbiamo accennato a Luca Marini che è finito sedicesimo Valentino Rossi felice dodicesimo dopo una qualificazione straordinaria per il potenziale della moto e del pilota in questo momento con uno straordinario quarto posto poi Valentino Rossi si ritrova a fare il gambero un po' insieme anche a Jorge Martin che comunque aveva fatto una gara delle primissime posizioni anche lui poi le gomme hanno ceduto di schianto Luca Marini che ricordo è il fratellastro di Valentino Rossi fa una gara in realtà anonima e finisce sedicesimo prendendole dal suo compagno di squadra Enea Bastedini con la differenza che Luca Marini è molto pompato dalla stampa italiana e il Bastedini Rimini no nonostante abbia vinto un titolo mondiale e ultimo degli italiani è Lorenzo Savadori che precede un deludentissimo Franco Morbidelli che ha avuto problemi di gomme fin dall'inizio dietro da natalità a una Yamaha SRT che non è quella di Valentino Rossi perché di fatto la moto di Valentino Rossi la possiamo considerare semiofficiale quella di Morbidelli di fatto è una moto clienti, una moto vecchia di Savadori abbiamo detto non si poteva pretendere molto da un pilota che l'anno scorso ha fatto tre gare Savadori è di fatto un collaboratore dell'Aprilia prestato al ruolo di secondo pilota comunque c'è da fare ancora esperienza per il pilota romagnolo diamo i titoli adesso di rider del giorno e di delusione del giorno un po' l'ho già accennato il mio rider del giorno e sarò di parte è Enea Bastedini l'ho già detto perché da campione mondiale in carica di Moto2 arrivare in MotoGP è una categoria totalmente diverso una moto difficile come comunque la Ducati è e fare decimo battendo comunque piloti molto più blasonati di lui basti pensare che appunto è andato davanti a Valentino Rossi che comunque due robe discrete le avrebbe anche fatte a Miguel Oliveira che qualche gara in MotoGP l'ha pure vinta Brad Binder che ha vinto un titolo mondiale dominando in Moto3 insomma anche Orge Martin campione mondiale in carica di Moto3 Luca Marini che per know-how comunque è un pilota assolutamente che dalla stampa italiana viene tenuto l'occhio insomma ha battuto tanti piloti di un certo livello ed è veramente un buon viatico per un pilota di cui si parla veramente troppo poco e io sono veramente contento di essere un simpatizzante non troppo latente del best delimini Enea Bastianini la delusione del giro in realtà non è un pilota in particolare ma è un costruttore perché dopo le buonissime cose fatte vedere lo scorso anno la KTM effettivamente ha deluso e non poco perché effettivamente la causa austriaca è finita after the music basti pensare che il migliore è Miguel Oliveira il portoghese sul KTM ufficiale che batte Brad Binder ma parliamo di posizioni di assoluto rincalzo perché parliamo di tredicesimo e quattordicesimo posto che i MotoGP sono di fatto in margine della zona punti quindi veramente le briciole per una casa che comunque poteva ambire a essere quantomeno la quarta forza del mondiale certo ci sono un sacco di Ducati da battere c'è qualche onda e c'è soprattutto la Suzuki c'è l'aprile di Electric Park Road che comunque è una moto a livello della KTM se non addirittura leggermente sotto eppure la KTM ha fatto veramente molta fatica le altre KTM sono finite fuori dai punti con Petrucci che in realtà fa una gara disastrosa ma perché si ritira dopo mezza curva e Iker Lecuona comunque fa il suo onesto di certissimo posto ma non ci può aspettare secondo me molto di più in questo momento da Lecuona che anche nella categoria inferiore ha fatto vedere poco o niente la MotoGP e tutte le altre categorie in ogni caso torneranno già questa domenica per il Gran Premio di Doha dunque si ripete la gara del Catare chissà che Ducati non possa fare quel piccolo step in più per piazzarne almeno uno sul gradino più alto del podio nella categoria regina passiamo adesso alla Moto2 alla categoria intermedia che anche lei ha aperto i battenti così come l'anno scorso in Qatar e come l'anno scorso di fatto va a vincere uno dei piloti più in forma inteso come appunto panoramica dei test parliamo dell'inglese Sam Laws che ha dimostrato di avere un passo straordinario sia in qualificazione sia in gara ha dimostrato dal primo all'ultimo metro di spingere, di battere la concorrenza Sam Laws sul team Mark VDS si è ritrovato dopo aver vinto una serie di gare consecutive ben tre lo scorso anno è ripartito da dove aveva di fatto concluso la scorsa stagione nonostante appunto quel picco di rendimento arrivato tra l'Italia e la Spagna nel finale l'anno scorso Sam Laws ha effettivamente deficitato di prestazioni ma qui sembra essere veramente il go-to guy l'uomo da battere dunque attenzione al pilota inglese che torna a vincere in Moto2 stavolta partendo dalla pole e per lui suona God Save the Queen nell'inizio nazionale britannico seconda posizione per un altro pilota a tenere d'occhio in questa stagione ovvero Remy Garner che con la solita Kalex del team Aio fa veramente quello che vuole e va in una seconda posizione in solitaria qui in una gara di Moto2 si è visto il congelamento subito delle prime due posizioni e poi c'è stata una grandiosa volata per il podio che ha visto coinvolto due italiani e un altro dei miei pupigli ovvero Raul Fernandez compagno di squadra di Remy Garner sulla Kalex del team Aio il podio se lo giudica il pilota Fabio Di Gianno Antonio sul team Gresini ed è molto importante dal punto di vista del significato il podio di Di Gianno Antonio perché viene effettivamente dedicato a Franco Gresini che è scomparso causa appunto infezione da Covid Di Gianno Antonio ha la meglio sul pilota del team Sky Marco Bezzecchi che comunque finisce quarto e per quanto riguarda gli altri italiani abbiamo un dodicesimo posto di Celestino Vietti all'esordio assoluto in Moto2 compagno di squadra di Bezzecchi sul team Sky VR46 e Ostonio Arbolino finisce appena fuori dai punti altro rookie dalla Moto3 gli italiani a parte appunto di Gianno Antonio Bezzecchi hanno un po' faticato tutti gli altri sono fuori dai punti dalla porta Manzi, Iari Montella e Nicolo Bulliga sono arrivati al traguardo scusate l'italiano che è andato un po' a farsi benedire non è partito Simone Corsi e Baldassarri si è ritirato gli italiani in Moto2 possono effettivamente avere qualche chance di avere le possibilità di giocarsi il podio difficile in Moto3 ma lo vedremo quando parleremo appunto della campionato inferiore effettivamente già da questa prima gara secondo me si può notare come effettivamente ci sia un possibile duello tra la Red Bull KTMI o con Gartner evidentemente primo pilota e Sam Lowes con il britannico assolutamente favorito gli altri piloti in particolare gli italiani Bezzecchi di Gianno Antonio possono effettivamente fare da outsider per un eventuale titolo ma Samuel Dean Lowes è assolutamente in questo momento il pilota più in forma della Moto2 gli altri piazzamenti per completare la top 10 abbiamo Raul Fernandez uno dei miei popilli vi dicevo in quinta posizione attenzione al giovanissimo piatto spagnolo anche per gli anni a venire sesta posizione per l'americano Joe Roberts che va nel team Italtrans dunque un team assolutamente interessante e fa un ottimo sesta posizione settimo è Jake Dixon con la Kalex del team Petronas ottavo è Marcel Schroeter su Kalex non la posizione è Boben Sneijder del team Stop & Go e chiude Jorge Navarro con la prima delle quattro Bosco Scuro che di fatto sono le ex speed up che non hanno in realtà ben performato e ci si aspetta una crescita assolutamente interessante della scuderia italiana nota di merito va a questo pilota però Cameron Bobbie che è il dominatore della ultima superbike americana anzi in realtà delle ultime stagioni della superbike americana e fa un ottimo un decisimo posto dunque dovresti dare un titolo di MVP della Moto2 oltre a Sam Bloss lo do al pilota statunitense passiamo alla Moto3 che è stata oramai la solita gara di bordello la solita gara di volata e alla fine il volatone se la giudica anche in questo caso Haume Masia un pilota della KTM in questo caso sempre Timaio trattasi Haume Masia è uno dei favoriti inequivocabili al mondiale Moto3 di questa stagione e va a vincere una volata in cui il Timaio fa addirittura doppietta perché in seconda posizione c'è il rookie Pedro Acosta che di fatto viene da un'esperienza della Red Bull Rookies Cup e del CEV la terza posizione invece se la giudica Derrin Binder un altro dei piloti da tenere d'occhio in questa Moto3 è un pilota molto veloce ma parecchio in costante il sudafricano fratello di quel Brad che regna in questo momento in MotoGP quarta posizione per Lagas Gas che è un costruttore di fatto all'esorto assoluto un costruttore spagnolo del gruppo KTM ma corre come marchio proprio con Sergio Garcia ottimo quarto quinta posizione per Gabriel Rodrigo sulla Honda del team Gresini sesto è il migliore degli italiani ed è Niccolò Antonelli che effettivamente sorprende con la KTM del team Avinti e Sponsorama che quindi è il satellite di quello che è in MotoGP sugli italiani in generale in Moto3 non ho delle grandi aspettative in particolare su Antonelli perché Antonelli è uno dei tanti italiani veterani della Moto3 in Moto3 da veramente un sacco di tempo sono sei anni con questo sette che Antonelli è in questa categoria e non ha mai dimostrato di essere un pilota di livello assoluto è un pilota piazzato più che un vincente comunque ottima stessa posizione per Antonelli ma gli italiani quest'anno in Moto3 probabilmente non vinceranno un titolo mondiale settimo è Izan Guevara altro pilota spagnolo altro pilota di talento della Gas Gas che fa un ottimo sestimo posto all'esordio assoluto ottavo è Tatsuki Suzuki che rimonta dall'ultima posizione partiva ventottesimo e finisce ottavo ed evidentemente a lui va il titolo di MVP della Moto3 non ha una posizione per un altro giapponese Kaito Toba e chiude la top ten Jean-San Dupasquier ai primi punti della carriera lo svizzolo dunque note di merito anche per lui gli altri italiani abbiamo detto abbastanza male se non un disastro totale Fernandez scusatemi Fenati finisce soltanto undicesimo nonostante comunque due long lap e sono soltanto due gli italiani a punti tutti gli altri da Nepa Migno tutti fuori senza contare Dennis Foggia e Riccardo Rossi anche loro ritirati sia per cadute sia per problemi tecnici comunque come abbiamo visto gli italiani hanno chance di fare bene in Moto2 e in MotoGP in Moto3 purtroppo non c'è stato ancora il richiamo generazionale ci sfida ancora una volta grandi veterani che fanno obiettivamente quello che riescono comunque il primo vincitore della Moto3 è spagnolo è Aume Masia e anche per lui suona la marcia reale vedremo se Masia riuscirà a replicare la vittoria in quel probabile bordello che sarà il GP di Doha del 4 di aprile dove evidentemente uscirà il Racing Podcast devo capire ancora se registrarlo domenica sera per farlo uscire direttamente verso le 9 dello stesso giorno oppure comunque lo vedrete il giorno dopo all'ora di pranzo tra l'una e le due in ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate di questo Racing Podcast iscrivetevi se ancora non l'avete fatto se il contenuto vi è piaciuto ovviamente condividetelo anche ai vostri amici vi lascio con il podio della MotoGP che vede dunque Maverick Vignales vincere davanti a Sarko e Bagnia su Ducati e saluto da parte di MetroTorgerd ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti